Fratelli rossonieri e amici rivali di youtube, buongiorno 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 e buon mercoledì a tutti amici allora ragazzi scusate che facciamo da qua il video ma devo mettere a posto i due lampadari che sembrava ieri sembra di essere il sono a Natale, che mi si vede o non mi si vede che ho bruciato due lampadine sopra nel soffitto ma ho bisogno di una mano e niente ragazzi, allora parliamo un attimino della situazione, innanzitutto sto un po' meglio anche se sono fiacco non si vede che ho preso freddo, qua dentro fa freddo adesso e niente sto un po' meglio però non sono ancora informissimo infatti io live oggi, ho intenzione di fare una live oggi ma la farò magari sicuramente domani quando starò ancora più ripresa che starò meglio cosa volevo dirvi ragazzi, innanzitutto l'infortunio di Ibra è normale che ti mette paura, agitazione perché comunque sia, non è che non abbiamo un giocatore delle sue caratteristiche rosa, non c'è proprio un giocatore proprio forte come lui secondo me adesso proprio in circolazione ma da tutte le parti, cioè il problema è questo però c'è anche da dire che noi possiamo, abbiamo anche vinto delle partite senza Ibra Rebic non è una prima punta ma sarà utilizzato come prima punta molto probabilmente è arrivato un momento anche di Lorenzino che sicuramente si strapperà il suo spazio e tutto come mi dite ma non è ancora pronto è, intanto comunque ha avuto un altro mese in più di tempo c'è 18 anni per crescere e tutto quanto è e più passano le settimane e sicuramente una persona comunque sia a giocare con quel fenomeno di davanti migliora, quindi comunque la massima fiducia anche in Lorenzo sicuramente adesso, la sfortuna è che ci abbiamo ancora fuori Leao, questa è stata la cosa che è la nostra sfortuna che purtroppo Leao si è fatto male nel momento proprio più sbagliato diciamo perché si è fatto contemporaneamente male anche a Ibra però adesso non mi ricordo quanto è il tempo di recupero che ci deve mettere Leao però sicuramente non erano tempi lunghissimi, vediamo un attimino, Ibra sicuro da quello che si è capito salterà le tre partite di Europa League ed è questa una brutta tegola secondo me perché lì l'Europa League si sa che adesso ormai noi abbiamo la testa sul campionato e tutto ma l'Europa League ragazzi bisogna andare avanti per forza domani poi parleremo oggi pomeriggio della partita contro Lilla è un passo che noi assolutamente dobbiamo passare a questo girone qua nella maniera più assoluta abbiamo tutte le carte in regola per farlo ovviamente l'infortunio di Ibra non deve assolutamente per nessun motivo essere una scusante è vero, adesso abbiamo la coperta, se prima era corta, ma è cortissima perché poi si è fatto male Leao adesso anche Ibra, vedremo veramente Augedi che passate fate, sono molto curioso di vederlo c'è Sadamekar che può giocare a sinistra, c'è Spaghettino a destra, abbiamo Brian Diaz la squadra è stata costruita comunque molto bene perché col modo che abbiamo noi di giocare davanti a Ibra è sostituibile però comunque sia mettendo dentro Rebic come prima punta o Lorenzo, allora Rebic è più uno che detta la profondità Lollo invece più le caratteristiche di Ibra non sto dicendo che è paragonabile a Ibra, ha 18 anni Lollo però comunque fisicamente è tutto davanti a un bel toro, veramente una bella bestia Lollo vediamo un pochettino come scenderemo giù in campo domani adesso se si stava già iniziando a parlare di mercato, prenderesti i balottelli, molti parlano di cardi iniziamo a pensare adesso sinceramente a queste partite qua che è la cosa fondamentale poi abbiamo tutto il tempo per parlare di mercato comunque magari oggi farò un video che vi dico la mia un attimino su balottelli, sui cardi e compagnia bella adesso quello che vi voglio chiedere a voi, com'è che giochereste voi sinceramente? giochereste magari, o magari potrebbe anche essere un Brian Diaz falso 10 per dirti un Brian Diaz falso 10 perché adesso comunque sarà utilizzato sicuramente Brian Diaz Cialanoglu grazie a Dio si è ripreso sta bene Leao rientrerà, comunque Ibra salta sicuro le tre partite d'Europa League salta sicuramente a bella Fiorentina la Sampdoria si vorrebbe rivedere contro il Parma che il Parma è una squadra molto tosta quindi salterà queste due partite qua niente, peccato, peccato perché insomma il suo infortunio arriva in un momento veramente magico per lui se i gol in dieci partita statisticamente addirittura tre doppiette negli scontri diretti perché dice che segnava soltanto le piccole però se andiamo a vedere Ibra se ben vi ricordate vi ricordate che un tempo addirittura lui era criticato perché non segnava mai né in Champions League né negli scontri diretti beh all'età di 39 anni forse Gartuso ha ragione a dire a me sembra più forte di dieci anni fa perché comunque sei gol contro Roma, Inter e Napoli ragazzi questi qua sono veramente dei numeri allucinanti per uno di 39 anni trascinatore assoluto in questo momento è il miglior attaccante del mondo punto con le sue caratteristiche non c'è neanche mezzo uno che segna, fa segnare tutto poi a differenza di un tempo che magari era più lezioso sottoporta e tutto ma sottoporta è un cecchino è cattivo come pochi veramente è una cosa una perdita molto molto importante naturalmente non ci voleva però adesso vediamo un attimino gli altri dai è giusto anche che gli altri che sono impegnati tanto fino adesso comunque sia questi ragazzini questi ragazzetti questi ragazzini terribili adesso esprimano le loro qualità al meglio insomma niente io personalmente personalmente utilizzerei naturalmente il Rebish come prima punta senza andare a snaturare e darei spazio ad Augie nella maniera più assoluta con Lollo pronto ad entrare con Brain Diaz pronto comunque sia a subentrare anche lui per dare una mano e non snaturerei niente metterei Augie a sinistra e terrei Saramai che era adesso che sta andando bene con Cialanoglu senza andarli a toccare e inventare altre cose poi durante la partita le cose non dovessero andare bene c'è pronto Lollo comunque Brain Diaz pronto a subentrare Spaghettino pronto a subentrare e se andiamo a vedere la nostra rosa comunque sì diciamo coperta corta è tutto però non è neanche poi cortissimissima perché noi ragazzi i cambi ce li abbiamo cioè noi comunque se vai a vedere noi i cambi comunque sia stiamo dimostrando che comunque li abbiamo forse quello che veramente mancherebbe in questa squadra qua che comunque perché adesso è un fortunato ma ce l'abbiamo che è Leao è forse una prima punta da utilizzare un attimino un po' più di esperienza rispetto a Lollo da utilizzare proprio subito subito immediatamente senza stare lì ad aspettare che il ragazzo cresca vi parlo sempre di un ragazzo del 2002 e vediamo un attimino ragazzi vediamo un attimino domani c'è questa partita fondamentale contro l'Ila ne parliamo comunque oggi nel pomeriggio che parliamo anche di sul punto Icardi Balotelli o di chi se ne è più parlato chi più ne metta sappiamo tanto una cosa perché che sicuramente la società secondo me naturalmente andrà a prendere un paio di elementi non dico tre o quattro elementi un paio ne prenderà secondo me per gennaio andrà magari a prendere un difensore un difensore secondo me è una punta andrà a prendere a meno che non esploda proprio Lollo questo periodo qua che non c'è Ibra Lollo esploda oppure che Leao dimostri veramente che è effettivamente il vice Ibra come primo appunto anche se lo vedo a lui piace secondo me più fare laterale che la punta anche se però lui è stato preso per fare quello e basta questo è quanto ragazzi ci sentiamo più tardi ok non faccio live perché c'ho ancora mal di gola quindi non ho orato forse troppo l'altra sera avevo preso freddo comunque febbre non ne ho quindi comunque sono tranquillissimo sono prova anti covid e vi mando un bacio vi mando un abbraccio ciao a tutti